Passiamo al periodo riguardante la guerra di Spagna, allorché per l'ennesima volta elezioni decomoraticamente vinte dal fronte popolare spagnolo non furono rispettate da militari e da fascisti che insorzero. Purtroppo i repubblicani spagnoli ebbero la solidarietà solo dei lavoratori in quanto tali, una solidarietà di classe, ma nessuno Stato intervenne. L'Unione Sovietica mandò degli aiuti, il Messico si comportò bene mandando degli aiuti, ma nessuno intervenne in Italia. Invece a fianco dei fascisti intervennero gli italiani, i tedeschi e i portoghesi. Le cosiddette democrazie di allora, le solite di oggi, l'Inghilterra, la Francia, il Belgio, l'Olanda, gli Stati Uniti, preferirono lasciare il campo al fascismo piuttosto che un'altra rivoluzione dopo che la Sovietia avesse successo. Fu un massacro, fu la prova generale però oggi in Spagna, domani in Italia, dissero gli italiani. E dopo è andata diversamente. Salute. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se mi vuoi scrivere sai dove sono? Terza brigata mista, prima linea del fuoco, dice così questa menzione spagnola. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.